Manifestazione dei commercianti di abbigliamento, calzature e articoli di gioielleria questa mattina a Pescara, nei pressi della sede della Regione, per chiedere la riapertura immediata dei negozi chiusi ormai da due settimane. Gli esercenti hanno ricevuto rassicurazioni dal Presidente del Consiglio regionale Sospiri di un impegno immediato della politica per un confronto con il Governo e per il passaggio dell'Abruzzo in zona arancione e successivamente gialla. Crediamo di poter dire che questo nostro senso di responsabilità, quello del Presidente Marsiglio, è stato apprezzato e che anticiperemo, non facendo passare con i negozi chiusi tutto il ponte dell'Immacolata, l'apertura degli esercizi commerciali che possono lavorare in zona rossa. Per arrivare il più prima possibile alla gialla, cioè il nostro indice RT in questa parte di territorio è abbondantemente sotto 1, non è a 1, è abbondantemente sotto 1. Credo che le nostre strutture sanitarie abbiano dimostrato particolare efficienza, parlo di quelle della città di Pescara, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per lavorare in sicurezza. Ma fermo restando, se me lo permette, che se anche i ristoranti di Pescara fossero aperti, in alcuni giorni, che sono quelli di massima affluenza, un cittadino di Montesilvano non potrebbe venire a pranzo a Pescara. Anche il DPCM fatto per le festività natalizie ha delle lacune evidenti. I dati che ci fornisce la regione Abruzzo ci dicono che noi già potremmo andare in zona gialla, siamo sotto lo 0,9, non capiamo perché in questo momento un fatto tecnico, solo tecnico, debba impedire la riapertura dei negozi. La politica è al nostro fianco, i parlamentari locali, regionali hanno dato l'ok a che il ministro Speranza prenda atto di questi dati, noi dobbiamo riaprire. Perdere un weekend in questo momento è fondamentale. Oggi attendiamo con ansia che il ministro Speranza prenda atto di questi dati e non faccia come di solito fa da protocollo, far attivare l'esito dell'ordinanza dalla mezzanotte e dalla domenica, ma lo anticipi il prima possibile. Proprio perché i dati sono positivi, proprio perché siamo entrati ormai nel primo natalizio e perché oggi il commercio sta soffrendo e sta arrivando forse un punto in un ritorno. Noi chiediamo da ieri di riaprire il negozio perché questo DPCM che ci ha messo in zona rossa, possiamo dire ridicolo? Perché l'80% dei negozi è aperto. Cioè in un negozio di abbigliamento ti puoi infettare, in un'ottica no. La zona rossa è zona rossa per tutti, quindi a questo è uno sbaglio fatto in precedenza, nel senso che siamo tagliati fuori soltanto abbigliamento, calzature e gioielleria. In tutti gli altri negozi si può entrare, ma io lo trovo veramente ridicolo. Adesso dobbiamo aspettare il ministro che guarda i dati e ci dirà, spero subito, che possiamo riaprire perché in questo periodo per noi un giorno di questo periodo natalizio è troppo importante. Per noi dicembre rappresenta forse il 30% degli incassi dell'anno, dove abbiamo tutte le riba da pagare perché la merce ci arriva tantissima in questo periodo. Non è che c'è i ristori, ma i ristori che ci danno loro, che ci compriamo il tacchino a Natale. Non siamo in Germania che ci danno il 70%.